Grazie a tutti. Possiamo essere alla tua presenza, oggi ancora possiamo avere questo privilegio di lodare, benedire il tuo nome e di poter essere al tuo ascolto. Sono tanti quelli che purtroppo non hanno questo privilegio e vogliamo ricordarci perché tu sei un Dio amorevole, un padre buono che si prende cura dei suoi figlioli. Vogliamo chiederti di parlare ai nostri cuori, di benedire veramente ognuno di noi e di aiutarci a capire in che cosa possiamo fare la nostra parte per edificare, per crescere, per fare sì che il tuo regno venga. Nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo insieme Signore. Amen. Due settimane fa ero a Roma per una manifestazione organizzata dall'Alleanza Evangelica Italiana che era mirata a attirare l'attenzione dei credenti ma soprattutto delle autorità e della cittadinanza su quello che è la libertà religiosa negata in alcune nazioni. Diciamo che quel giorno abbiamo preso a fuoco, mirato, diciamo, quattro nazioni in particolare che è il Sudan, l'Algeria, il Kazakistan e il Pakistan. Tutte e quattro queste nazioni hanno delle storie veramente allucinanti per quanto riguarda la Chiesa di Gesù e i credenti. Ci sono tante storie purtroppo che potrebbero fare un film dell'orrore abbastanza ben fornito. Abbiamo potuto in qualche maniera alzare la voce però una cosa mi ha scioccato, diciamo così, mi ha rattristato. Ecco, era la poca presenza di credenti. Una manifestazione di questo tipo mi aspettavo almeno 200-300 persone. Eravamo sì e no 50-60, proprio a contare anche i carabinieri che erano lì a sorvegliare se stavamo bene. E questo mi ha molto rattristato perché è qualcosa che credo la Chiesa deve prendere coscienza. E per questo motivo il messaggio di oggi è proprio mirato a questo. Eravamo appunto una cinquantina, c'erano una decina di fratelli della Chiesa pakistana a Roma, c'erano alcuni fratelli cinesi, che anche loro sanno che cosa vuol dire soffrire per Gesù, c'erano 5-6 missioni rappresentate, quindi a parte Gioventù Missione c'era anche Porte Aperte, OM, Voce dei Martiri e poi l'Alleanza Evangelica Italiana. Dell'Alleanza Evangelica Italiana erano circa una ventina perché sono loro che organizzavano e sono venuti da Pescara e da altre città, ma da Roma e dalla Chiesa locale c'era ben poco, molto poco. E allora mi ha posto un po' una domanda questa cosa, sarà che ci interessiamo veramente ai nostri fratelli perseguitati? Sarà che abbiamo a cuore coloro che soffrono per Gesù? Roma era in subbuglio, sì, c'erano appunto, vi ho detto c'erano i carabinieri vicino, la piazza era Piazza Santi Apostoli ed era una piazza grande, però purtroppo non ci hanno dato l'autorizzazione né per fare un palco né per amplificare quello che è stato detto e condiviso alla popolazione. E quindi era un po' come una piccola riunione all'aperto ed eravamo più o meno tra di noi. Allora dicevo che Roma era in subbuglio, sì, ma era per la manifestazione del giorno dopo, c'era la maratona a Roma, la maratona internazionale, e sicuramente ci saranno stati più credenti ad assistere alla maratona che non alla nostra manifestazione. E uno dice qualcuno che con gli atleti ci lavora, sono sempre atleti di Cristo, sono credenti, ma sono pur sempre atleti. E la realtà è questa, io penso che facciamo fatica a alzare un po' la testa e guardare oltre i nostri problemi. Abbiamo già tante difficoltà, siamo già tanto messi alla prova. Abbiamo troppi problemi da risolvere l'uno dietro l'altro e a volte non c'è tempo per pensare agli altri. Giusto oppure mi sbaglio? Solo io? Forse sì, ogni tanto magari ci può anche venire, ecco, avviene un predicatore, parla sulla persecuzione, ci incoraggia a pregare per i nostri fratelli che sono perseguitati e può essere, spero, che magari dopo qualcuno prenderà un po' a cuore di farlo. Però con la distanza e con il tempo, molte volte non siamo fedeli. I fratelli, dobbiamo pregare per i fratelli, ma quelli che sono lontani, quelli che sono all'altro capo del mondo, non li conosciamo neanche, come facciamo a pregare? Come facciamo a sostenerli? Come facciamo a essere loro vicino? Ma da quando Gesù è venuto, la situazione è questa. Gesù stesso ci ha detto, in Giovanni 15, 20, dice così, ricordatevi della parola che vi ho detta, il servo non è più grande del suo Signore, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Quindi c'è una doppia parte in questo versetto. È vero c'è la perseguizione, però se c'è qualcuno che ascolta, allora c'è una vittoria. qualcuno che nella Chiesa Primitiva ha subito, ha vissuto la persecuzione per il nome di Gesù, ne parla in questo modo, in Prima Pietro, capitolo 4, versetti 14 e 16, dice, se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su di voi. E un po' più avanti dice, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio, portando questo nome. l'Apostolo Pietro. Sappiamo tutti come ha vissuto l'Apostolo Pietro nel Prima, come ha vissuto con Gesù e come il giorno stesso della crucifissione non ha avuto il coraggio di confessare che era seguace, discepolo, appartenente a quel Gesù che stavano mettendo sulla croce, però dopo si è rischiattato e dopo ha vissuto una vita piena per servire il Signore, per essere un discepolo vero. Ed è stato perseguitato per questo, è morto anche lui, crocefisso, la tradizione dice che è stato crocefisso a testa in giù. Ma lui ha scritto queste cose perché la Chiesa a Roma è in tutto l'impero, stava vivendo una forte persecuzione. La persecuzione avviene a diversi livelli, forse a volte è un po' insordina, diciamo che la società non lo considera come tale. Penso un po' a come l'Evangelo è arrivato in Italia all'inizio del XX secolo attraverso anche missionari americani. diciamo che l'Evangelo intendo, ovviamente non è che non si conosceva il Vangelo in Italia, però quello che è stato il movimento evangelico è soprattutto la conoscenza di Gesù, Cristo come Signore, dove appunto magari i primi credenti, i primi veramente nati di nuovo nel sud, particolare in Sicilia, Calabria, così che si riunivano, magari qualcuno benintenzionato, come il prete del paese o altri, dicevano ai bambini prendete i sassi e buttateli a questa gente perché stanno avvelenando il paese. Queste sono testimonianze così. Ma questa è una persecuzione, diciamo così, non esagerata, ma ci sono altri livelli di persecuzione. e ne parleremo un po' più avanti. La cosa importante è che noi che siamo liberi di poter lodare il Signore, di poter pregare liberamente, riunirci in la sala di culto senza temere che qualcuno entri con un mitra o qualche arma per distruggere, dobbiamo ricordarci del privilegio che abbiamo. Dobbiamo ricordarci che potrebbe succedere anche a noi. Chissà. Vorrei che leggiamo un passo nell'Antico Testamento, e questo è forse il passo di riferimento che possiamo mettere sul titolo del bollettino, se volete, che parla di una persona che è stata perseguitata già nell'Antico Testamento, no? Per la sua fede. Ma è un esempio per noi. È una storia che abbiamo sentito sin dalla scuola domenicale. Si chiama Daniele. Daniele, capitolo 6. Conosciamo tutti questa storia, no? Daniele è gettato nella fossa dei leoni per la sua fede. Allora leggiamo insieme questo passo, i sedici primi versetti. È un po' lunga, però credo che è importante che ci ricordiamo ogni tanto anche di questo passo. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo soprattutto il suo regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele. e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque noi non avremmo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero vivi in eterno o re Dario tutti i capi del regno i prefetti e i satrapi i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto chiunque per un periodo di trenta giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo tranne che a te o re sia gettato nella fossa dei leoni ora o re promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile conformamente alla legge dei medi e dei persiani che è irrevocabile il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto quando Daniele seppe che il decreto era firmato andò a casa sua e tenendo la finestra della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno si metteva in ginocchio pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio poi si recarono dal re e li ricordarono il divieto reale non hai tu decretato che chiunque per un periodo di trenta giorni farà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo tranne che a te o re sia gettato nella fossa dei leoni e il re rispose e disse così ho stabilito secondo la legge dei medi e dei persiani che è irrevocabile allora quelli ripresero la parola e dissero al re Daniele uno dei deportati della Giudea non tiene in nessun modo nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato o re ma prega il suo Dio tre volte al giorno udito questo il re ne fu molto addolorato si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero sappia o re che la legge dei medi e dei persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni e il re parlò a Daniele e gli disse il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti fin qua la parola di Dio questa mattina il seguito lo conosciamo sappiamo che Daniele è stato liberato è stato risparmiato e che invece i suoi accusatori sono finiti loro nella fossa dei leoni e sono morti quindi qui abbiamo un esempio di un uomo un uomo vero un uomo di Dio un uomo che è tosto uno che sa in chi deve confidare un uomo che non ha paura anche se c'è un decreto una legge anche la legge del re e che in premio c'è la morte non ha paura di prendere posizione lui sente che c'è questo decreto e la prima cosa che fa è va via dove? a pregare a parlare con il suo Dio con il vero Dio Daniele è un esempio non solo per chi è perseguitato ma anche per chi non lo è perché ci dà quelle indicazioni che Dio non lascerà mai 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 i suoi servi i suoi figlioli i suoi amati da soli Dio sarà sempre vicino sarà sempre attaccato a chi lo onora a chi lo mette al primo posto nella sua vita a chi desidera fare la sua volontà anche se c'è una legge iniqua che ti dice che non lo puoi fare Dio è fedele lo è fedele per chi è perseguitato per chi ha appunto a che fare con delle difficoltà con gente che magari vuole fare del male ma Dio è fedele anche con chi è libero però mette il suo Dio al primo posto e vuole fare la sua volontà è una grande responsabilità per noi sapete io credo che questa mattina non voglio mettere carichi supplementari sulle vostre spalle ma abbiamo delle responsabilità come credenti e voglio solo ricordare che noi abbiamo la nostra parte da fare penso che dovremmo rendere conto del nostro impegno oppure non impegno o le mancanze per chi soffre vogliamo ricordarci perché abbiamo questo privilegio di poter essere tranquilli e liberi però dobbiamo pensare a coloro che non hanno questo privilegio mi viene in mente anche l'apostolo Paolo che durante un suo viaggio missionario si prese carico di aiutare altri certo era piuttosto a livello economico in questo caso e voleva riportare un'offerta a Gerusalemme per i credenti che erano in difficoltà Paolo credo ci dà un buon una parola anche qui in atti 20-35 voglio leggere che è un po' generale anche dice in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù il quale disse egli stesso vi è più gioia nel dare che nel ricevere quindi questo è ovvio che si riporta qualcosa di economico di materiale però c'è più gioia nel dare che nel ricevere per me vuol dire anche dare del proprio tempo dare delle proprie risorse dare le proprie emozioni sapete dare è un verbo che è molto largo e quando si tratta di persone che hanno difficoltà a poter esprimere la propria fede a vivere la propria fede nella nazione dove si trovano perché appunto ci sono persecuzioni credo che non c'è niente di più prezioso che sapere che magari c'è i fratelli là dall'altra parte del mondo che stanno pregando che prendono del tempo per pregare per sostenerci per chiedere al Signore di essere insieme nella lotta non c'è niente ci sono altri versetti anche qui in seconda testa l'onicesi ho visto che seconda testa l'onicesi no prima testa l'onicesi non è il versetto del bollettino di questa mattina però c'è seconda testa l'onicesi 3 1 a 5 che dice proprio qualcosa di molto pratico per noi questa mattina dice per il resto fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come la la è tra di voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvaggi poiché non tutti hanno la fede ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno a vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore che fate e farete le cose che vi ordiniamo il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo penso che tutti noi siamo convinti che dobbiamo essere vicino ai nostri fratelli no? nella stessa comunità è una delle priorità credo e se come dicevo all'inizio di questo messaggio se non abbiamo una famiglia se non siamo insieme non c'è tutta questa gioia tutta questa felicità nel poter esprimere insieme la nostra fede il nostro essere appartenere a Cristo e quindi dobbiamo ricordarci dobbiamo prendere del tempo per pregare per i nostri cari fratelli che sono nella persecuzione vorrei solo dirvi ieri non so se forse lo sapete abbiamo un collaboratore una famiglia di collaboratori pakistani a Como come Gioventunizione ieri abbiamo avuto appunto questo incontro di cui parlava Giuseppe all'inizio e ci hanno dato la loro testimonianza li conosciamo già da da un po' quindi conosciamo la loro testimonianza di fede perché sono stati anche loro perseguitati nella loro nazione questo fratello ha accettato il Signore in Pakistan e da allora si è scatenato l'inferno praticamente per lui ha cambiato abitazione una trentina di volte in due anni o tre anni poi ha dovuto scappare lui è arrivato poi in Europa e ha chiesto quando era in Italia il ricongiungimento familiare per la famiglia per la moglie e i figli però ieri una cosa che ci hanno detto e che mi ha molto colpito e che credo posso dire questa mattina è noi ringraziamo il Signore per la persecuzione noi siamo grati a Dio perché attraverso la persecuzione noi vediamo un Dio vivente che risponde alle nostre preghiere che conosce quello che sono i nostri bisogni che ci viene incontro e che ci libera e sappiamo che i nostri figli non c'è bisogno che noi spieghiamo niente perché loro sanno che cosa vuol dire essere cristiano e questo mi ha molto toccato perché mi sono detto se dovesse arrivare la persecuzione qui come è lì in Pakistan come reagirei ringrazierei anch'io il Signore per la persecuzione direi grazie Signore finalmente è arrivata questa persecuzione finalmente ci sparano addosso finalmente ci riempiono a cazzotti perché siamo cristiani non lo so dovrei passarci ma so che Dio è fedele se ha dato la forza a questi fratelli lo darà anche a noi amèn io volevo solo darvi alcuni dati perché possiamo renderci conto di che cosa vuol dire essere perseguitati per Gesù parlo del Pakistan perché appunto in questa conferenza manifestazione a Roma mi hanno chiesto di presentare questa nazione appunto con questi collaboratori ho avuto qualche indicazione in più ci sono spesso delle chiese allora intanto il Pakistan scusate è una nazione enorme forse non in superficie nel senso di estesa però al punto di vista della popolazione è la sesta nazione più popolosa del pianeta e le statistiche sono un po' divergenti qualcuno dice 180 190 milioni Wikipedia dice 210 milioni io prendo Wikipedia quindi 210 milioni di abitanti è nato il Pakistan come una una repubblica islamica uno stato islamico e quindi ci sono 97% di musulmani queste sono le fonti di in internet di porte aperte nel 47 nasce come repubblica islamica del Pakistan ma grazie a Dio il Signore ha il suo popolo in questa nazione ha dei credenti e gente che è veramente tosta perché appunto con la persecuzione non si scherza e sono circa 3% quindi della popolazione che significa comunque 4 milioni di persone di fratelli di sorelle 4 milioni sono molto di più di quello che tutti i credenti nati di nuovo in Italia in tutta la nazione dell'Italia non ci sono non arriviamo ancora a 4 milioni di credenti o sono numerose le testimonianze sulle persecuzioni e ve ne leggo solo un paio domenica 15 marzo quindi un mese fa ci sono stati due attentati in due chiese diverse in Pakistan e hanno ucciso almeno 17 persone e ferito più di 80 quindi sono stati rivendicati dal gruppo islamico Jamat Hul Harar legato ai talebani in un preciso disegno anticristiano gli attentatori hanno scelto due chiese una cattolica e una protestante affollate per i servizi domenicali che distano appena di 400 metri l'una dall'altro questa è fonte porte aperte sul web quindi ci sono molti attacchi dico molti perché una volta al mese o giù di lì per me è molto attacchi alle chiese e a volte purtroppo ci sono delle strage ci sono delle violenze stupri facili sugli infedeli perché essendo il 97% della popolazione islamica hanno le spalle coperte e spesso queste violenze non vengono punite dalla legge anzi vengono piuttosto ignorate il più delle volte dalle autorità locali il Pakistan ha avviato negli anni 80 un processo di islamizzazione per tutta la nazione e quindi sono nati dei focolai di gruppi radicali islamici che non hanno difficoltà ad armarsi e a fare strage appunto quindi preghiamo preghiamo per per questa nazione preghiamo perché il signore veramente possa toccare i cuori ci sono c'è un governo il governo pakistano anche anche a Roma c'è l'ambasciata e ovviamente è un governo che è praticamente musulmano al 100% però all'ambasciata c'è un fratello credente c'è un fratello evangelico e vi chiedo di pregare per lui non do il suo nome però vi chiedo di veramente portare questo fratello davanti al signore perché lui potrebbe anche essere in qualche modo una scintilla un qualcosa che possa è anche pericoloso per lui in qualche modo se cioè i suoi colleghi sanno che è cristiano però non ovviamente non finché non dà fastidio però ecco preghiamo preghiamo per lui preghiamo per i cristiani ex musulmani che sostengono il peso maggiore della persecuzione in Pakistan i gruppi radicali islamici li considerano appostati e le loro famiglie e i loro amici e i loro vicini ritengono la loro scelta una vergogna per la comunità c'è una legge sulla blasfemia in Pakistan come in tante nazioni musulmane islamiche che è una legge di facile o di larga interpretazione che permette è una facile scusa per praticamente togliere perseguitare appunto chi non è musulmano e togliere i propri beni a queste famiglie no? la legge sulla blasfemia un esempio è per esempio dire che Gesù è figlio di Dio per gli islamici è un blasfemo è una cosa che non esiste Dio non ha figli nel senso che non ha affatto nessuno a venire sulla terra Allah vabbè e quindi questa è una potrebbe essere questa è una blasfemia un'altra potrebbe essere che il profeta Maometto non è un vero profeta questo sarebbe una cosa blasfema per gli islamici quindi in realtà ci sono tante cose che possono poi riportare a un'interpretazione che permette di mettere in carcere chiunque e dico questo perché anche qualche musulmano magari un po' meno radicale può essere accusato di questa blasfemia quindi preghiamo perché questa legge venga eliminata dalla legge in Pakistan insomma e poi c'è un ultimo punto che volevo mettere davanti a voi si stima che ogni anno 700 ragazze e donne vengono sequestrate spesso stuprate ovviamente cristiane e obbligate a sposare uomini musulmani e subiscono forzatamente la conversione all'islam per favore preghiamo per la protezione di queste donne e ragazze cristiane in Pakistan quindi soggetti non mancano io vi invito veramente penso che tutti abbiamo accesso a internet a guardare un attimo in internet che cosa significa essere perseguitati per Gesù nel mondo io ho dato l'esempio del Pakistan ci sono tantissime nazioni che possiamo adottare che possiamo veramente prendere a cuore e magari anche come gruppo anche nelle proprie cellule magari passare dieci minuti per pregare per i nostri fratelli e sorelle che sono in difficoltà abbiamo abbiamo un grande potenziale possiamo fare molto però dobbiamo ricordarci che abbiamo questa possibilità e quindi possiamo venire incontro e credo che appunto ci sono adesso vi do solo il nome di OEM per esempio che in modo particolare ha stilato una lista di tantissime nazioni dove l'Evangelo è ostacolato che il Signore ci aiuti a rispondere presente alla Sua chiamata quando si tratta di manifestare solidarietà amore sopporto e vicinanza a chi soffre amen preghiamo signore padre ti ringraziamo e ti benediciamo perché abbiamo veramente questa libertà noi siamo privilegiati e vogliamo pensare pregare e ricordarci dei nostri fratelli e sorelle che invece non hanno questa libertà che non sono sempre riunirsi liberamente senza il rischio di essere attaccati uccisi perché lodano e benedicono il tuo nome signore aiutaci a essere anche noi parte e partecipi di questa battaglia di questa lotta e soprattutto dacci attraverso il tuo spirito santo una guida per poter essere anche magari più specifici e pregare per persone in modo più più mirato oppure situazioni più mirate ti ringraziamo perché Daniele è un esempio e ci ha fatto comprendere che tu sei vicino che tu sei colui che chiude la bocca dei leoni colui che in qualche maniera ti incoraggia e ti dice non mollare signore anche nelle situazioni varie non so adesso se qualcuno per la sua fede nella sua famiglia in qualche maniera come dicevo prima subisce una persecuzione delle difficoltà perché ha fatto questa scelta di seguire te però chiedo che veramente tu possa dare coraggio forze e tu possa dare veramente le parole giuste e l'amore giusto per poter guadagnare a Cristo il più possibile ti ringraziamo e ti benediciamo signore anche per questa chiesa e chiedo veramente che la tua la tua grazia possa essere permanente qui sui responsabili su Giuseppe il pastore e su tutti quelli che in qualche maniera si adoperano all'avanzamento del tuo regno signore Gesù ti ringraziamo insieme nel tuo bel nome amen che il Signore vi benedica e grazie